Allora, siamo qui con Concita De Gregorio, giornalista, ex direttore dell'Unità e attualmente editorialista per Repubblica. La mia prima domanda è come mai è finito il suo rapporto con l'Unità e come è stato vissuto questo cambiamento? Quali sono state le ragioni che l'hanno causato? Io sono andata all'Unità con un progetto giornalistico e culturale molto preciso che era quello di fare un luogo aperto di aggregazione di punti di vista molto diversi, una sinistra molto ampia e sono andata soprattutto con un mandato del mio editore che era quello di appunto aprire, ascoltare, dare voce, includere. Via via questo mandato si è un po' smarrito, nel senso che io ho fatto esattamente questo perché è quello che volevo fare e quello che so fare, dare voce a chi non si sente rappresentato da certi partiti politici, ascoltare i movimenti, andare a sentire il disagio, assecondare le richieste che vengono dal basso, quindi il referendum per l'acqua, per il nucleare. Tutto questo via via nel corso del tempo si è scontrato invece con una logica che era un po' più conservatrice, un po' più timorosa del nuovo, che è stata quella dei partiti politici che fanno riferimento al centro-sinistra, il PD in particolare. Quindi diciamo pure che il gruppo parlamentare del PD ha fatto una raccolta di firme dicendo che il mio giornale era un giornale demagogico e populista e quindi insomma siamo entrati un po' in rotta di collisione, nel senso che la linea politica dei partiti del centro-sinistra e in particolare del PD, che era ed è quello che ispira quel giornale, non si sentiva rappresentata dalla mia direzione, per così dire, che era considerata una direzione troppo aperta, troppo vicina all'area del non voto, del dissenso, dell'astenzionismo e dei movimenti. La mia idea è sempre stata quella che si dovesse dialogare, parlare e ascoltare, che la realtà non sia un nemico, ma sia qualcosa da comprendere possibilmente e poi di conseguenza con cui misurarsi e invece diciamo che mi sono trovata alle prese con un partito tutto proiettato su alleanze al centro, intelligenze con casini, confini che francamente non mi interessavano più, io non faccio politica, faccio giornalismo e avevo un progetto culturale, absit il mio reavervis, insomma volevo fare una cosa che avesse anche un peso culturale e in quelle condizioni non si poteva fare più, quindi a un certo punto i leader politici di riferimento hanno fatto capire al mio editore che non gradivano la mia direzione e mi hanno sostituita con un direttore molto bravo, una persona che stimo, che aveva appena scritto un libro con Bersani e che quindi era senz'altro noto e affidabile. Per quanto riguarda la sua esperienza attuale a Repubblica, come sta vivendo la libertà? Io sono cresciuta a Repubblica, sono arrivata a Repubblica che avevo 26-27 anni, venivo dai giornali locali, dal Tirreno e dalle televisioni, dai radio locali della Toscana, per me Repubblica è stato il giornale dei miei 20 anni formativi dai 20 ai 40, è stato il mio giornale, il giornale dove ho imparato tutto quello che so, poi naturalmente da Repubblica sono partita e sono tornata, sono andata all'estero, sono andata a lavorare negli Stati Uniti, in Argentina, ho fatto esperienze di lavoro all'estero anche molto lunghe, sono stata al Clarin, sono stata al Paese, però Repubblica è stato il mio giornale di riferimento per tutta la vita, quando sono andata all'unità l'ho fatto non perché volessi fare il direttore di giornali, ma perché mi sembrava giusto, è dovuto alle generazioni più giovani rispetto alla mia, fare un tentativo di inclusione, di allargamento, quindi dare la possibilità a qualche giovane di entrare dentro il giornale, fare esperienze, questo anche non è stato possibile per una crisi economica tremenda, una sindacalizzazione molto rigida, per cui non è stato possibile fare nemmeno un decimo di quello che avrei voluto, però molto è stato fatto, molte persone giovani sono passate da lì e hanno poi avuto successo altrove, quindi io credo di avere con l'unità fatto un lavoro anche perlomeno di scouting di qualche giovane talento, penso a Francesco Costa, Francesca Fornario, a Malcolm Pagani, a Mangino Brioche, a Anna Mallamo, penso a Francesco Piccolo che ha cominciato a scrivere di politica per noi e che adesso scrive sul Corriere della Sera, Marco Simoni che è finito al Sole 24 ore partendo da lì, quindi tante persone hanno trovato in quegli anni al giornale il loro spazio e questo per me è quello che io avrei voluto fare, se ci fossero stati i soldi e il tempo per farlo. La linea politica che orienta il giornale adesso mi sembra asfittica, io non sarei più stata lì, quindi il ritorno a Repubblica per me è stato un ritorno al mio mestiere, alla scrittura, anche se devo dire che un po' mi dispiace ogni tanto l'idea che forse c'è stata una quota parte di accanimento specifico perché ero una donna, è stato facile in quegli anni prendersela, insomma certe volte un po' ancora mi rammarico di non aver forse insistito con più vehemenza, ma più di quello che ho fatto davvero non potevo fare, Repubblica è la mia casa, sto benissimo. Chiarissimo, un'ultima domanda che vorrei farle è, sembrerebbe ultimamente che al di là del ruolo di informazione fondamentalmente che hanno i giornali, i giornalisti in generale per informare i cittadini, ci sia anche quasi una certa quota di influenza su quello che accade dal punto di vista politico, trova che sia così e quale peso e quanto hanno avuto effettivamente i giornalisti, i giornali anche in quella che è stata l'ultima crisi politica che abbiamo visto in questi mesi. Guarda, i giornalisti come tutte le professioni sono vari, la capacità di influenzare un giornalista dipende dalla capacità del giornalista di farsi influenzare, io ti ho appena raccontato per esempio di una mia non influenzabilità, se io avessi voluto come chi sta nel club dei direttori che passano da una direzione a un'altra, piacere a chi decide queste cose, quindi a chi comanda, quindi a chi ha il cordone della borsa, perché poi alla fine è un tema economico, fondamentalmente è un tema economico. Se si vuole piacere e non dispiacere, generalmente si è duttile e malleabile, se invece si vuole mantenere una propria coerenza e una propria fedeltà ai propri principi o ci si mette in proprio oppure si lavora con un editore o in un giornale che ci somiglia e questo è. Io per quello che mi riguarda sono disposta a perdere il lavoro pur di non spostarmi di un passo dal punto in cui sono, però capisco che non è facile, capisco che non per tutti è così. Chiarissimo. La ringrazio davvero tantissimo per il suo tempo. Grazie a voi. Grazie.